Musica Sul tema cultura e religioni di fronte alla violenza Passo la parola da lui Ho pensato che un po' la ragione per me importante di questa giornata fosse quella di tentare di dissipare prima di tutto dentro me stesso una specie di attrazione fatale tra la diversità e il conflitto e quindi ho cercato di mettermi un po' per questa stradina di riflessione di preghiera perché appunto capisco prima di tutto dentro di me che la diversità è sempre esposta ad essere radice e fonte di conflitto siccome l'altro è diverso da me io immediatamente l'avverto come quel lupo mi ricordo che al liceo ci insegnavano che certi tremendi filosofi inglesi dicevano che ogni uomo per l'altro è un lupo e ancora una volta devo dire che un po' di riflessione mi ha riportato a quello che io considero il grande regalo che un piccolo popolo di pastori ha fatto alla intera umanità intendo riferirmi ancora una volta alla preziosissima eredità ebraica che anche questa mattina è stata osservata con molta attenzione e con molta acutezza dai relatori e che mi pare non ci stancheremo mai di riconsiderare sia da parte di persone che come me hanno un quotidiano anche se modestissimo rapporto con il loro libro e la loro tradizione sia per chi conosce tutta questa grande tradizione sapienziale e culturale per corsi di studio, per interesse, per affetto, per appartenenza mi pare che appunto sia qui che noi possiamo oggi andare ancora una volta a ricercare le vie vere della pace e subito mi piace porre un piccolo pilastro del nostro percorso per dire che ritengo ormai sempre di più un errore guardare solo negativamente il conflitto il conflitto va affrontato è prima di tutto dentro a ciascuno di noi e è fonte di dinamiche incessanti perché in qualche modo capiamo che tutto quello che noi possiamo considerare un dato, un risultato, una certezza di fatto viene messo in gioco e quindi per essere se stesso deve porsi in questione deve accettare la contraddizione deve accettare l'altro da sé deve in qualche modo quindi concepirsi come l'eterno cammino di un viandante nella verità noi rischiamo di avere sempre un'idea troppo statica della verità allora da una parte è la verità dall'altra è l'errore la cosa è accettabile ma sapendo che è in ogni modo superficiale perché? perché la verità è sempre più grande di ogni persona che ci cammina dentro quindi noi non possiamo pensare al nostro rapporto con quella che potessimo ritenere anche la verità razionale o teologica più certa se non come un incessante camminare quindi siamo nella verità se camminiamo nella verità se pensiamo di esserci o addirittura di possederla probabilmente abbiamo in quel momento un contatto con una contraffazione della verità o peggio con una idolatria della verità che spesso poi si traduce nell'idolatria di se stessi e quindi c'è un cammino incessante di verifica tra la verità e l'umiltà intellettuale che è anche l'umiltà morale penso che è l'umiltà della interpretazione del proprio sé e che è questo pian piano acquisire il piacere di considerarsi un piccolo frammento nell'universo grande di cose più importanti di noi anche chi di noi vive la vita apparentemente più semplice più modesta, addirittura più mediocre di fatto invece semplicemente vivendo vive una realtà molto più grande di lui tutti siamo costretti a vivere una vita più grande di noi siamo sempre più piccoli davanti alla nostra vita davanti ai nostri sentimenti alla nostra gioia, al nostro dolore alla bellezza ineffabile di una relazione al disastro di una frantumazione siamo sempre più piccoli ma questa è la nostra grandezza Pascal diceva che il segno della superiorità della creatura umana su tutte le altre creature è l'inquietudine noi siamo persone perpetuamente inquiete la margherita è contentissima non la parte politica, il fiore della margherita è perfettamente contento di essere se stesso il cagnolino anche le tre cime di Lavaredo si danno un sacco di arie noi siamo invece molto inquieti ecco in tutto questo volevo ricordare proprio rispetto anche al grande tema dell'incontro, della pace, eccetera che fa parte del grande mito ebraico e non dico mito per dire invenzione dico mito per dire in qualche modo fonte di ispirazione guida e sentinella di un cammino storico veramente profondo c'è il mito di Babele il mito di Babele è l'ipotesi di una capacità assoluta di coesione nelle prime pagine della Bibbia questa gente ha una lingua sola un popolo solo, un unico progetto e sono capaci di tirar su una città e poi questa torre, è vero, immensa capace di raggiungere fino al cielo tutta la riflessione dei maestri dell'ebraismo su questo testo antico è sempre duplice perché Babele è sbagliata? certamente è sbagliata perché si pensa di poter costruire una torre così alta e così perfetta che mattone su mattone riesca a conquistare Dio questo al Dio di Israele non piace lui non vuole la religione come le altre religioni perché le religioni sono delle tecniche di conquista di Dio fanno finta di essere devote ma in realtà tentano di ingabbiare Dio religione richiama un po' un legare se tu fai il rito giusto costringi Dio a fare quello che vuoi tu se gli fai il rito giusto vinci il concorso di Miss Italia o vinci la battaglia e la guerra dei sei giorni mentre invece il Dio di Israele è un Dio che non si lascia legare quindi non è un Dio religioso non vuole la religione vuole semplicemente un rapporto di elezione come vedremo con questi piccoli pastori erranti della penisola del Sinai che egli ama quindi il primo errore di Babele è probabilmente certo quello di pretendere di farsi Dio quindi di innalzarsi segreta aspirazione di tutte le religioni perché uno è religioso? perché vuol diventare bravo essere così bravo da conquistare il cielo la religione non è un modo per onorare Dio ma in realtà per annientarlo solo la fede è un rapporto veramente amante di incontro con il Signore di tutto però l'altro problema di Babele è proprio quello delle lingue perché? perché loro sono saldi non hanno bisogno di far passi ormai sono una specie di ONU perfezionata è vero? e riescono a dominare tutta la storia tutta la realtà questo a Dio non piace confonde le lingue Babele vuol dire nella sua etimologia questa confusione linguistica non si capiscono più ognuno prende la sua strada e da lì incomincia il faticoso cammino della pace perché la pace o è imperiale la pax romana se appena uno diceva qualche cosa che non andava bene a Cesare prendeva uno slavaccione era già finito è vero oppure è la fatica dell'incontro delle diversità l'ebreo ha culturalmente nel mondo questa grande funzione di annunciare di testimoniare che la pace è l'accettazione dell'altro è in qualche modo il cammino che mettendoti davanti alla diversità pensa la pace come incontro come difficoltà eventualmente come conflitto come sorpresa come tua conversione alla diversità dell'altro e alla fine come incontro quindi la pace come una dinamica tanto che in tutte le scritture degli ebrei dei cristiani la pace non è mai una situazione la pace è sempre un'azione la pace vuol dire sempre fare la pace la pace è sempre da conquistare è sempre davanti a noi è un c'è una specie di tradimento etimologico nella parola pacifico per esempio perché per noi pacifico vuol dire un po' pacioccone francamente mentre invece il pacifico sarebbe nella sua etimologia il pacitore della pace e persino il fondatore del cristianesimo che è Gesù di Nazareth viene chiamato nostra pace ma quando poi si descrive cosa vuol dire per lui essere pace dicono che è colui che incessantemente abbatte il muro di separazione e fa dei due un popolo solo due miei fratelli monaci abitano a Gerusalemme da un po' di tempo proprio sotto il muro di separazione e quando noi ironicamente gli diciamo ma cosa fate qua cosa sgurate sotto sto muro ci cerchiamo di buttarlo giù è vero a forza di paternoster a forza di conoscenze di amicizie studiano giorno e notte l'ebraico e l'arabo per poter parlare agli uni e gli altri è vero perché bisogna abbattere il muro perché la pace non è una situazione stabile ma è la dinamica che continuamente abbatte il muro di separazione che molto spesso persino nel letto nuziale si alza fra i due e stabilisce silenzio incomunicabilità incomprensione violenza prevaricazione pace come abbattimento del muro quindi pace come una conquista incessante sotto a questo però c'è poi il piccolo nucleo diciamo centrale di quello che oggi pensavo di poter in qualche modo balbettare e cioè che in questo abbattimento del muro in questo tentativo incessante di far la pace in questa esigenza assoluta della relazione anche difficoltosa con l'altro di questa esposizione continua alla diversità il gioco però non è in pari qui sono un po' influenzato dal fatto che sono tornato sabato trovando qui un mio disastro ma insomma quello lì non l'avevo calcolato ma sono stato tre giorni a Gerusalemme per un interessante iniziativa che coinvolge anche Bologna anche la nostra regione che si chiama Save Children che è il tentativo di far curare per delle patologie difficili i bambini palestinesi negli ospedali israeliani ed è molto interessante anche perché è efficace anche se adesso abbiamo finito i fondi e addirittura per 200 di questi bambini abbiamo dovuto sospendere le terapie a rischio di morte ma non abbiamo più quattrini è vero non abbiamo più neanche la possibilità di chiederne a chi ce ne ha dati già molti e la cosa però è interessantissima perché provoca la forzatura di un incontro l'anno scorso qui nella mia parrocchia alla Dozza eravamo una cinquantina di medici 25 palestinesi e 25 israeliani che erano qui per fare delle cliniche di aggiornamento nelle nostre università nelle nostre aule universitarie però stavano insieme a tavola parlavano parlavano di questi bambini è vero e ci sono medici ebrei che sfidando il riposo dello shabbat inforgano la macchina varcano tutti i posti di blocco per andare a trovare i loro piccoli pazienti nei villaggi del deserto segni piccolissimi di pace ci sono c'è il conflitto c'è la violenza del conflitto ma all'interno del conflitto c'è la pace in questo conflitto appunto però in questa diversità non si può ignorare un dato assoluto della sapienza di Israele e di quello che la sapienza di Israele di per sé ha dato in pienezza a tutta l'economia cristiana qui ci sarebbe un discorso delicatissimo da fare sul cristianesimo sul perché per esempio essendo io un prete cattolico sia pur matto sono qui oggi e istintivamente mi riferisco più a paradigmi ebraici che a paradigmi cristiani ci sono problemi enormi di contaminazione del cristianesimo soprattutto di contaminazione col potere d'altra parte il nostro fondatore ci ha impegnato a frequentare sempre cattive compagnie e quindi fatalmente frequentandole un po' ci si contamina è vero questa nota invece va tenuta presente perché è al cuore anche del mistero cristiano anche per il non credente quindi io non ho nessun timore di dire delle cose indelicate o spiacevoli anche per chi non ritiene di condividere delle prospettive di fede cioè c'è un fatto molto importante che al cuore di questa tradizione sapienziale non è vero che i rapporti sono paritari c'è una preferenza c'è una elezione c'è una ragione di verità c'è una urgenza di intervento per chi? per il piccolo per il piccolo mentre il mondo sceglie sempre il grande questa sapienza sceglie il piccolo il piccolo è l'eletto loro sanno che in tutto il mito di Israele è sempre eletto il piccolo tra Caino e Abele è eletto Abele tra Israele e gli altri grandi popoli di tutta l'umanità è scelto Israele e Dio gli dice non ti ho scelto perché sei il più grande di tutti i popoli anzi tu sei il più piccolo ma ti ho scelto perché ti amo cioè c'è nella storia e credo che oggi questo sia di estrema attualità un mistero di predilezione mentre la storia sembra quella che studiamo nelle pagine dei nostri libri dar sempre ragione a ricco vince l'imperatore l'unica pace possibile è quella imposta dall'impero di fatto c'è una elezione che porta a una storia interessante e frantumata che è l'elezione storica per il piccolo per il povero per il ferito per l'escluso allora questo mi sembra che diventi molto interessante anche in un tentativo di laicità della concezione della storia perché dobbiamo decidere del nostro futuro e chi risolverà i problemi del futuro i ricchi i potenti le grandi nazioni le grandi culture oppure il povero ecco a me sembra che il mio compito in questa giornata importante sia quella semplicemente di segnalare questa categoria del povero che va precisata però mi permetto di dirlo anche in rapporto a cose interessantissime che ho sentito questa mattina ma che però alla lunga mettono in me una certa inquietudine perché perché credo che tutti qui il 90% potremmo essere d'accordo che bisogna eleggere il povero nel senso che che alle situazioni svantaggiate a quelle ferite bisogna portare soccorso che quindi certo bisogna che in qualche modo le società e le culture trovino la forza di piegarsi su tutto quello che è minore ferito emarginato eccetera e in questo non sarebbe difficile ci sembra ma vedremo che è quasi un'apparenza inglobare anche tutto il dramma tutta la fatica che indubbiamente c'è che è quello del fenomeno immigratorio oggi nel nostro paese però questo discorso del piccolo va portato più in avanti in questo momento cioè chi è il piccolo? Sei tu questo è il punto fondamentale il grande segreto di questa alternativa culturale assoluta è che nella elezione del piccolo tu possa riscoprire la tua piccolezza la tua povertà la tua ferita e quindi e quindi il tuo bisogno dell'altro in fondo sapete questo discorso sull'altro per dire che tu sei sempre donna prassede che fa sempre del bene a tutti questo alla fine è stucchevole e questo alla fine non produce e questo alla fine è estremamente pericoloso rischia di creare delle nuove aristocrazie delle nuove egemonie quante volte abbiamo dovuto subire i regni benefattori Gesù Cristo che era scappato diceva i signori di questo mondo si fanno chiamare benefattori ma dominano invece sulle nazioni dominano e sono benefattori c'è un rischio di aggancio dei termini la proposta secondo me culturale grande urgentissima anche per la nostra cultura e per il nostro paese come mi permetterò di dire un pochino ironicamente anche già in qualche modo verificata è che l'elezione è sui poveri che siamo noi è questo il ribaltamento culturale che è necessario l'altro non è semplicemente quello al quale tu puoi fare del bene accetti di fare del bene devi fare del bene l'altro è la tua grande opportunità questo è il punto secondo me cioè finché noi davanti alla relazione non occupiamo la parte del povero di fatto non succede niente perché noi siamo da sempre abituati a essere una cultura egemone a essere i più intelligenti i più colti i più dotti è vero i più tecnologici e persino i più virtuosi che questo è proprio il colmo mentre invece in qualche modo l'ipotesi profetica di una impostazione nuova della nostra storia ma qui per fortuna abbiamo oggi il capo di tutte le scuole perché il problema è altissimo a livello formativo l'ipotesi interessante sarebbe che l'altro dunque invece di essere il tuo problema è la tua opportunità qui c'è uno scontro frontale che io adesso generalizzo io non so niente di queste cose sono robe che mi passano così per la testa leggendo un po' la Bibbia però mi pare che il vero problema sia del conflitto frontale tra due ipotesi culturali la prima che io chiamo quella legata al mondo classico greco occidentale noi siamo tutti in qualche modo dei greci dal punto di vista dei segreti profondi della nostra cultura ogni persona è perfetta o è potenzialmente perfetta o ha in se stesso tutte le possibilità della sua perfezione per la cultura semitica il singolo il solo è spezzato è frantumato solo l'altro e l'incontro con l'altro lo fa essere quello che è non è un caso che i miti della grande cultura classica sono sempre miti dell'eroe addirittura in genere dell'eroe assassino tutta la romanità viene in su perché questo bel tomo di Romolo riesce a fare la pelle a remo e quindi è lui il re è vero quindi c'è un eroe solo che è lui il principio di una stirpe di eroi soli di un mito inseguito di ricchezza di preponderanza di prevalenza di essere il genio il primo e questa è la tensione istintiva della nostra cultura di fondo per un uomo per un semita del deserto da solo uno e niente e quando Dio regala al primo uomo fatto di terra tutta la creazione quello resta malinconico perché non ha davanti a sé quell'altro da sé che lo fa essere se stesso e il mito dice di questo sonno di Adamo e del dono che Dio fa ad Adamo dell'altra persona da sé quando Adamo si risvegna dice oh meno male per fortuna perché perché solo l'altro da te è la pienezza di te da solo poi niente da solo sei povero c'è una insufficienza della solitudine ma si potrà dire una cosa così è vero al genio all'imperatore al ricco all'intelligente è vero al prete astuto ma come fai a dirgli una cosa così sei un povero sei un povero come si potrà comunicare alla nostra cultura questa passione per la povertà che diventa capisci curiosità attenzione attesa accoglienza ma accoglienza desiderata perché l'altro è appunto il grande dono che interviene nella tua vita perché altrimenti isolato lì con te stesso continui a sgurare quattro cose ma non va avanti è vero è come nel tuo pensiero accetti coraggiosamente la sfida della diversità e dell'obiezione l'antidogma così tu accetti nella tessitura storica della tua vita questa provocazione che è l'altro da te la sua cultura il suo pensiero se vuoi la sua violenza la violenza del suo immettersi e questo è una è un problema delicatissimo oggi perché perché o ci difenderemo o accoglieremo tra l'altro permettetemi qui di aprire una parentesi noi ci stiamo difendendo ma chi si difende ha paura chi si difende si sente invaso un vecchiaccio come me ha fatto in tempo a sognare per esempio un continente come l'America con grande ebrezza di spirito perché mi sembrava il posto dove poteva arrivare il religioso e l'eretico il sano e il malato il giusto e il ladrone e vedevo con stupore questa capacità di una società di diventare se stessa continuamente amalgamandosi secondo me l'inizio della decadenza dell'impero è Hiroshima quando cioè un grande popolo precipita nella paura e si autodifende magari per affermarsi per essere sempre più ricco più potente in quel momento incomincia la sua decadenza perché l'altro diventa un problema una fatica non so se vi ricordate cosa succedeva a un sospetto di comunismo alla frontiera dell'ingresso in America è vero roba da marti insomma non ci si riusciva a entrare se eri sospettato perché era cominciata la grande paura dell'altro per carità un esempio io amo molto l'America gli americani non voglio esprimere nessun giudizio negativo su niente è solamente un esempio per dire capisci che devi avere il coraggio della tua paura che devi avere il coraggio di questa diversità perché questo è il segreto della tua ricchezza dopodiché certo che va benissimo dire che dobbiamo accordarci sulle regole sulle leggi sulle tradizioni però però credo che culturalmente dobbiamo avere il coraggio di una crescente audacia e quindi in qualche modo assumere ma questo qui non so voi sarete poi bravi è vero a pensare se questo fosse mai possibile porlo culturalmente avere il coraggio della nostra povertà il coraggio della nostra insufficienza è una tra l'altro è una verifica che io faccio tutti i giorni un ragazzo straniero che è due anni che aspetta se gli riconoscono il il rifugio politico che fa un lavoro miserabile ma è laureato in lettere e il suo coetaneo italiano ventenne quasi sempre questo qui è come suo zio è come suo padre capacità di sofferenza di resistenza capacità di vivere con un senso di sufficiente sopportazione degli stati di vita che noi non giudicheremo possibili la lontananza affettiva perché fra l'altro per esempio il rifugiato politico è tutto diverso dall'immigrato dall'immigrato perché l'immigrato consapevolmente volutamente ha lasciato invece il rifugiato è scappato via per lui il rapporto con sua madre è enorme è enorme se non avesse quella possibilità di quella telefonatina settimanale mi crepa di testa eppure regge fa vuole è forte è forte no voglio vedere cosa succede quando finalmente queste nostre amiche signore straniere si sistemeranno a un livello decente di vita e non potranno più accettare di fare un lavoro che le tiene 24 ore su 24 24 ore su 24 fuori da casa loro dai loro affetti familiari per star dietro a mio nonno mio nonno mi casca in braccio noi stiamo facendo adesso un passaggio per esempio per tutto questo problema degli anziani che secondo me è vissuto sconsideratamente perché non ci si rende conto che è un lusso di passaggio sì certo potremmo esaurire tutti i poveri di tutto il mondo ma si esauriscono grazie a Dio si esauriscono grazie a Dio queste signore potranno fare una vita più semplice più normale più affettiva più da mogli da mamme da persone che vogliono andare anche loro a vedere una mostra di quadri e il nonno eh vero bene quindi per dire che chi sono i poveri non sarebbe interessante riscoprire una certa nostra povertà invece di continuare a battere un po' devo dire in modo inconsistente sulla pretesa che siamo ricchi e quindi per questo siamo predati è solo così? oppure c'è un'altra ipotesi per leggere la storia e concludo perché approfitto anche di Paolo qui perché ho bisogno molto che lui mi aiuti anche per un discorso sulla scuola certo io vedo che è una cosa buona insomma in genere per dire a Bologna io sono molto contento ecco proprio anche di come vedo tutto e tutti piegarsi con attenzione con affetto verso condizioni che certo sono difficili questi bambini questi ragazzi probabilmente anzi avremo davanti degli anni più difficili ancora perché il rischio dell'evasione scolastica secondo me crescerà ancora di più e non solo negli italiani ma soprattutto forse negli stranieri là dove in qualche modo anche la struttura familiare tradizionalmente per loro così forte e per emergenza diventata così debole probabilmente provocherà delle emorragie ancora più gravi però 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 non possiamo dimettere completamente una speranza un sogno e oggi la facciamo di fronte per me è sempre il provveditore adesso non mi intendo dei nomi nel senso che qualche esperimento di scuola di scuola multietnica sarebbe molto importante perché è certo che facciamo già un grande passo quando anche un bambino o un ragazzo del Marocco della Nigeria è vero del Laos viene accolto a scuola ci sta bene eccetera così però dopo un po' siccome io gestisco una piccola scuola un po' rilegge vero a casa mia dopo un po' mi viene il nervoso perché mi accorgo che il marocchino studia Garibaldi dico ma che cavolo gliene frega di Garibaldi a questo qui chi è Garibaldi per lui per fortuna anche i programmi scolastici si sono alleggeriti per noi ma non so se vi ricordate i vecchioni se lo ricorderanno cosa volevo dire per esempio gli affluenti di destra del Po quelli di sinistra si imparavano ma quelli di destra ma e vuoi che questo qui dal Marocco vero mi debba imparare che il taro va dentro nel Po è proprio così e d'altra parte il mio ragazzino il suo compagno di scuola italiano deve sapere niente del deserto marocchino deve sapere niente del Negev deve sapere niente della dolorosa e umile storia del suo paese deve sapere niente della grandezza della sua tradizione religiosa che è andato dalle antichissime chiese cristiane di Sant'Agostino al dominio islamico adesso ha tutti questi problemi delicatissimi che indubbiamente ci sono deve sapere niente oppure la scuola dovrebbe il più possibile diventare veramente questo primo luogo di questo incontro con l'altro dove ognuno ha bisogno dell'altro perché la relazione nell'ebraismo e nel cristianesimo viene concepita rigorosamente come reciprocità cioè non c'è sempre lo scout buono che fa attraversare la vecchina e la signora buonissima che porta il pacco nella tradizione ebraico e cristiana la regola assoluta della solidarietà è la reciprocità cioè ho bisogno che tu mi lavi i piedi e sono capace forse di lavarteli ogni persona ogni cultura ogni popolo è dentro certamente a grandi povertà ed è peraltro misterioso possessore di potenzialità straordinarie di bene di verità di pace e di allegrezza grazie 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 se la vorrò verificare con Ferroni perché se no diventa il caso potremmo doverlo provarci i sperimenti di titolini 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 mi sembra che un tema può essere davvero uno dei temi che rimangono qui da questo governo che è il tema del legame tra verità e solidità intellettuale l'identità intellettuale è proprio la base della ricerca della ricerca dell'ultima